www.carrozzeriamenarini.it Minarini. Si è iniziato come un lavoro di riparo e si è iniziato un prodotto per i veicoli speciali, raggiungendo molti contratti per i veicoli commerciali fiat. Dopo la scuola della seconda guerra mondiale, iniziando dal 1948, Carossiere Minarini iniziò a concentrare solo nel campo dei bus. Seguendo una serie di cambiamenti nella struttura di gestione, l'autobus dell'autobus dell'Italia italiana in 2014, con due planti, uno in Bologna e uno in Flumeri, in l'Italia, dove siamo oggi. Questo è uno dei più grandi planti di bus in Europa, con un'attività di più di 1 milioni di m2 e con un'attività test di più di 5 km. Inizia con il fallo del 2021, la Minarini CityMood 12e è manufatturata qui in Flumeri. La Minarini CityMood 12e è il primo bus di batteri elettrico di 12 metri, che può portare il livello made in Italy. Il frame di supporto di stile è coperto con pannello alluminio. Il corpo è immerso in tanti di cataforisi in Flumeri, facendo un processo molto automatico, che rappresenta un vero gemma dell'autobus dell'autobus dell'industria italiana. La Minarini CityMood 12e è costruita sull'autobus dell'autobus 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 dell'autobus. La Minarini CityMood 12e è la formula NMC per i veicoli equipati per la charge di depot via plug-in e connecdo e il LTO per i quelli con pantografo. La capacità di maxi è 490 kWh, la capacità di standard 392. E ora stiamo facendo una viaggio dal passato al presente, non dal futuro, ma dal presente. Qui troviamo il motore combustibile, e qui il Siemens, ora Cammin's group, motor di magneto permanente con un potere di max. 160 kW e un max. di 3.000 Nm. In fronte, il bus ha un ZF axle con una suspensione indipendente, mentre il rear axle è un ZF AV-133 con un design di portale invertito. Due sono componenti adottabili. Guardando l'interior, l'autobus dell'autobus 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 dell'autobus. Passenger capacity can vary from 22 to 40 seats, and the total capacity of this bus is close to 100 people. The vehicle can accommodate one or two wheelchairs, depending on configuration. A foldable manual ramp at the central door provides easy access, but an electrically operated version is also available. Seats are cantilever mounted, and of course it is possible to offer also USB ports in the passenger compartment. The driver's area can be partially or completely isolated by the passenger compartment. The cockpit provided by tech is dominated by the wide, colorful display. The driver's seat features automatic pneumatic adjustments. The bus can be equipped with two or three doors. They are by standard with internal rotation, but the second and the third door can be sliding. In terms of safety, the bus comes with a suite consisting of ESP, EBS, ABS, ASR, and it complies with the R66 regulation regarding rollover resistance, featuring side impact bars as standard. Our request, you can opt for mirror cams instead of traditional mirrors, and the Mobili shield plus collision avoidance technology. Both internal and external landing are based on LED technology. At the end of the day, literally, as public transportation in Europe is making a strong shift towards zero emission technology, and in the first half of 2023, over one third of the city buses registered in Europe were powered by batteries, the CityMood 12E represents a synthesis of over one century of innovation in public transportation.